Buongiorno, durante questa lezione ci occuperemo di Gregory Dino. Abbiamo già citato quest'autore quando abbiamo parlato della teoria generale dei sistemi, quando abbiamo parlato di Uri Brauferbrenner e di altri autori. Avevamo detto che abbiamo dedicato una lezione a questo personaggio e in effetti così faremo. Bene, cosa possiamo dire innanzitutto su questo autore? Come vedete egli nacque a Cambridge nel 1904, ha rivolto i suoi studi da principio verso l'antropologia e l'etologia e poi si è occupato, in modo diciamo estremamente particolareggiato, sia di cibernetica che anche di psichiatria. Noi ovviamente non ci occuperemo di tutto il pensiero dell'autore, sarebbero necessarie diverse lezioni, ma ci siamo focalizzati su alcune questioni, alcuni concetti e alcune proposte di questo personaggio, proprio in relazione anche alle lezioni che, come dire, abbiamo contestualmente fatto a quest'autore. Nella fattispecie ci occuperemo della scismogenesi, questo fenomeno antropologicamente rilevante e socialmente rilevante, del doppio legame, che è un'interessante riflessione proprio sui diversi livelli di comunicazione umana e, quasi cosa scaturisce da questa particolare comunicazione patologica, e poi daremo anche un accenno al tema dell'ecologia della mente e le sue ricadute sull'apprendimento, tenendo conto che abbiamo già affrontato dal punto di vista ecologico l'apprendimento con la lezione su Yuri, bravo per prendere. Bene, chi era Gregory Bateson? Beh, innanzitutto vediamo che era figlio del genetista William Bateson, e questo già fa vedere quanti stimoli avesse avuto intorno a sé questo studioso fin da bandico. Crede nell'ambiente accademico del St. John's College, ma si mostrò subito, come dire, in conflitto con l'ambiente vittoriano della scienza inglese, e pertanto decise progressivamente di rivolgersi verso l'antropologia, diciamo un eccesso forse di scientismo, quello nel quale appunto egli era nato. Dalla fine degli anni venti, fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, in particolar modo si spostano nella nuova Guinea e nelle popolazioni del Bali, per portare a compimento i suoi studi nel campo dell'antropologia, e comprende una cosa che forse per noi oggi è scontata, ma all'epoca evidentemente tanto scontata non lo era, cioè che al centro di tutti i rapporti umani vi sono prevalentemente fattori di tipo emotivo. Qui abbiamo messo queste immagini con tutte queste emozioni, per richiamare appunto anche visivamente questo concetto, ovvero che al centro di ogni forma di relazione, al centro di ogni anche organizzazione sociale e di gerarchie sociale, vi sono le emozioni. E questo appunto è un aspetto estremamente rilevante all'interno del pensiero dell'autore. Nel 1935 Bason si sposa con l'antropologa americana Margaret Mead, quindi una, diremmo, un'altra importantissima studiosa in campo antropologico, e dopo essersi trasferito in America, elabora i suoi studi, in particolar modo sull'apprendimento e sulle interazioni comunicative. Ed è proprio in America, in questo periodo diremmo noi americano, tra virgolette, che entra a contatto con le idee della cibernetica, di cui appunto accennavamo all'inizio di questa esposizione. Queste teorie, le teorie cibernetiche, in quel momento si stavano sviluppando, e però per Bason un'importanza determinante, condizionarono profondamente le sue ricerche. Qui, gentilmente, non ci viene aperta l'immagine, c'era appunto il modello cibernetico dell'informazione. Bason morirà a San Francisco il 4 luglio del 1980. Qual è l'ipotesi centrale di tutta l'opera di Gregory Bees? Beh, questa ipotesi che noi abbiamo detto oggi tratteremo, quella delle scismogenesi, che viene trattata nel 1935 in questa opera, Neven. Questa ipotesi si basa su che cosa? Sullo studio di come avvengano i cambiamenti all'interno di una società. E in particolar modo Bason conia questo termine scismogenesi, che va a rappresentare il processo che porta ad un processo, scusate la ripetizione della parola, che porta ad un processo di differenziazione delle norme comportamentali all'interno della società, all'interno dei componenti di una società. Che cosa fa sì che si modifichino i comportamenti all'interno di un determinato sistema sociale? All'interno del sistema, dice Beeson, possiamo andare a identificare la genesi di uno scisma, cioè di una, diremmo noi, estremizzazione delle sue componenti, riferendoci proprio ai modi attraverso i quali i diversi individui si relazionano tra loro. Queste relazioni portano ad un'escalation delle intensità comportamentali e comunicativi. Bene, in che direzione vanno queste, diremmo noi, manifeste escalation di intensità comportamentali e comunicativi? Secondo Beeson possono andare in due diverse direzioni. Due diverse direzioni che vengono dall'autore classificate secondo questa nomenclatura. La scismogenesi simmetrica e la scismogenesi complementare. E come vedete qui si trovano già elementi, elementi che poi faranno parte della pragmatica della comunicazione. e non a caso abbiamo scelto di parlare della scismogenesi di Beeson, proprio per, come dire, essere propedeutici agli approfondimenti futuri che riguardano la comunicazione e in particolar modo la pragmatica. Cosa si intende per scismogenesi simmetrica? Nella scismogenesi simmetrica abbiamo degli individui che rispondano, diremmo noi, aumentando l'intensità del comportamento. Aumentando l'intensità del comportamento che è però omogeneo, ovvero lo stesso tipo di comportamento si viene praticato da tutti gli individui presenti ma con un progressivo aumento di intensità. Per esempio, a proposito di diversi atteggiamenti che vennero studiati, egli studiò per esempio che si rispondeva alla violenza con la violenza, oppure al dono con il dono e via così dicendo, di modo da, come dire, mantenere un equilibrio ma a un livello di intensità sempre maggiore. Per quanto riguarda invece la scismogenesi complementare, gli individui radicalizzano i rispettivi comportamenti. Quindi il comportamento degli individui non è omogeneo, non è uguale, anzi è difforme e spesso questa difformità è caratterizzata dalla relazione o da ruoli, da relazioni del tipo dominante e sottomesso. Cioè c'è qualche d'uno che si trova nella condizione di dominio, qualche d'un altro che si trova nella condizione di sottomissione. pertanto che cosa abbiamo? Abbiamo per esempio che nella scismogenesi simmetrica si tende sempre a rispecchiare il comportamento dell'altro, quindi ci si comporta come con l'altro. Come verrà poi descritto appunto nel processo comunicativo, il processo comunicativo è un po' una danza, vedremo questa cosa quando parleremo di questo nella lezione dedicata alla comunicazione, nella pragmatica della comunicazione e nella fattispecie in questo tipo di danza, tra virgolette, ecco che ci si pone, diciamo, in relazione con gli altri, con i suoi stessi strumenti, aumentando l'intensità. Quindi abbiamo una capacità di minimizzare le differenze, rispecchiando il comportamento dell'altro. Qui abbiamo messo un'immagine rappresentativa, persone che stanno di fatto leticando, leticano e ognuno, come vedete, aggredisce l'altro nello stesso modo, quindi c'è una simmetria proprio di tipo comportamentale e questa simmetria porta all'intensità dello scontro, all'intensità, per esempio, del tono di voce. Per quanto riguarda invece la scismogenesi complementare, beh, questa appunto si fonda prevalentemente sul fatto che gli individui occupano posizioni differenti nella relazione. In particolar modo ci sarà uno o più individui in una posizione one-up, posizione superiore, primaria, e un certo uno o più individui nella posizione one-down, posizione inferiore o secondaria. E questo vedremo, verrà poi recuperato all'interno proprio di uno degli assioni della comunicazione di Václavich. Bene, la relazione complementare in particolar modo viene stabilita dal contesto sociale e culturale. E facciamo degli esempi di relazione complementare che sono esempi comuni e che in un certo senso riguardano anche la pratica degli insegnamenti. Per esempio abbiamo la relazione madre-figlio, madre-figlio perché il figlio è dipendente dalla madre, medico-paziente anche in questo caso, il paziente in un certo senso è nelle mani del medico, docente-allievo perché evidentemente anche in questo caso il docente, come dire, ha un po' il coltello dalla parte del manico e l'allievo chiaramente vive anche in una situazione di soggezione proprio dal punto di vista dei ruoli. E qui infatti abbiamo, per mostrare la differenza per esempio dello scontro comunicativo di prima, che si gioca alla pari, qui abbiamo messo invece un padre che sgrida un figlio e quindi da questo punto di vista si vede chiaramente uno in una posizione di superiorità primaria, l'altro in una posizione di inferiorità secondaria. Quindi la complementarietà della situazione è ben espressa. Bene, abbiamo detto però dell'importanza della cibernetica ed infatti nel 1942 Dyson viene a conoscenza proprio di uno dei concetti fondamentali della cibernetica. Prima purtroppo l'immagine non si è aperta mostrava proprio questo concetto, il concetto di retroazione. Il concetto di retroazione che poi vedremo più comunemente denominato in modo più semplice la questione del feedback. bene, con il concetto di retroazione ecco che Dyson analizza il fenomeno della scismogenesi e come dire articola in modo estremamente più preciso ancora le sue teorie. Qual è il punto centrale della riflessione della cibernetica e quindi del legame che c'è tra gli studi poi di Bayesian e appunto i processi di comunicazione. Nella visione della cibernetica ogni sistema si organizza e si caratterizza in base alle sue parti e questa organizzazione del sistema è continuamente aggiustata, regolata per così dire attraverso dei meccanismi di scambio di informazione circolare. L'informazione circolare è appunto il feedback. In base all'informazione che io ricevo io riaccomodo per così dire la mia struttura interna. Ora questo ovviamente è estremamente interessante, è simile per certi aspetti e ne abbiamo parlato parlando in modo introduttivo delle teorie dell'apprendimento a proposito del modello del TOTE, il text operate, text exit, quindi della psicologia cognitivista e qui però questo diventa estremamente più significativo perché ha a che fare proprio con gli scambi di informazione, gli scambi di comunicazione che nella fatti spese si intrecciano proprio a questa, diremmo noi, organizzazione sistemica della società. Qui vediamo un modello tipico, questa immagine per fortuna si è aperta, dove abbiamo un input, abbiamo un sistema, un output e un feedback. Il feedback, vedete, è un processo che proagisce sul sistema, il quale il sistema si equilibra in base al feedback che riceve dalle sue output, cioè ovviamente dall'informazione che emette. Ovviamente quello che abbiamo mostrato, quello che abbiamo mostrato è l'applicazione di un feedback a un circuito chiuso, diremmo noi, e qui però chiaramente le cose si complicano, si complicano profondamente perché noi non stiamo parlando di sistemi formali ma stiamo parlando di persone, cioè di organismi viventi. Ma andiamo per gradi. Allora, intanto diamo questa definizione di feedback, procedimento di controllo della recezione delle informazioni e questo ci permette appunto di avere ben chiaro che cosa si intende come feedback, un procedimento di controllo della recezione delle informazioni. Quando noi per esempio spieghiamo, quando io spiego, ecco io in questo momento non ho un feedback diretto, perché davanti a me ovviamente non ho nessuno, però ho un feedback indiretto o quantomeno ho un feedback indifferita, io posso andare a vedere se quello che ho spiegato viene recepito, viene effettivamente guardato oppure no. E questo per me rappresenta un feedback e va a regolare il mio comportamento futuro, cioè se molte persone seguiranno quello che io sto spiegando in questo modo, io sarò portato a continuare nel mio comportamento e quindi a perpetuare in ulteriori spiegazioni con questa metodologia. Diversamente, chiaramente in assenza di altri feedback, io ovviamente sarò portato per naturalezza a modificare parte dei miei comportamenti. Bene, vediamo che cosa cambia, quindi o meglio più che che cosa cambia, che cosa viene integrato all'interno della teoria della scismogenesi attraverso appunto l'introduzione di questo concetto di feedback e quindi secondo l'introduzione del processo di retroazione. Allora, riguardo la scismogenesi appunto, si possono manifestare diverse forme di retroazione, dice Bison, la retroazione positiva e la retroazione negativa. Proviamo a vedere degli esempi di retroazione positiva e degli esempi o quantomeno degli elementi di retroazione negativa. Allora, per retroazione positiva è quando appunto noi abbiamo a che fare con un aumento dell'aspetto quantitativo che viene utilizzato per mantenere l'uguaglianza tra i diversi elementi che sono parte del nostro sistema. Facciamo l'esempio più semplice del mondo che è alla nostra portata, cioè che è proprio nella nostra quotidianità. Per esempio quando siamo in una stanza, mettiamo una decina di persone, ma ovviamente questo può riguardare un'aula o quant'altro, c'è del rumore di fondo, quindi uno per parlare deve alzare la voce, alzando la voce però aumenta il rumore di fondo e gli altri a loro volta aumentano il loro tono di voce e così via si ha un'escalation di aumento continuo del rumore. E questo per esempio è una cosa a cui bisogna fare molta attenzione, mentre siamo per esempio in una classe, mentre si sta spiegando, se io inizio ad alzare la voce perché c'è del brusio, perché gli studenti tra virgolette non stanno attenti, cioè parlano tra loro, io in realtà alzando la voce non faccio altro che alzare il brusio, perché poi gli studenti alzeranno il loro tono di voce per continuare a parlare tra loro e io allora dovrò alzare ancora di più la voce e insomma per così dire non se ne viene più a capo. E questa cosa ovviamente può portare poi a un'implosione del sistema nel momento in cui ovviamente non si trova uno sbocco così. Ovviamente però la retrazione non funziona soltanto in dinamiche negative, la retrazione positiva funziona anche per dinamiche positive. Per esempio quando siamo in un gruppo classico, in un gruppo di lavoro dove c'è un impegno costante verso l'obiettivo, il compito assegnato e allora questo produce dei cambiamenti da parte di tutti perché vediamo che tutti in modo sinergico cercano di aumentare la loro capacità produttiva rispetto al compito assegnato. Quindi c'è una forte cooperazione e si riesce a ottenere dei risultati soddisfacenti nel proprio insieme. Quindi c'è una sorta di diremmo noi in questo caso competizione positiva. Va bene, se questo termine che è un po' brutto però ogni tanto purtroppo non c'è un sinonimo migliore e quindi è come dire lo utilizziamo. Quindi non qualche cosa che porta a un risultato negativo ma in questo caso qualcosa di positivo. Andiamo invece a vedere le problematiche legate alla retroazione negativa. Qui invece le questioni sono un pochino più, diremmo noi, complesse e difficoltose. Perché? Beh, è proprio perché questo equilibrio all'interno del sistema è in realtà generato da una disparità di ruoli e quindi nella maggior parte dei casi abbiamo visto appunto situazioni dove ci sono degli elementi in una situazione di superiorità, one-up, e dei soggetti in una situazione di one-up. e nella fattispecie la retroazione negativa che cosa fa? Mi, diremmo noi, estremizza questi ruoli. Per cui chi è nella situazione di dominio è sempre più dominante. Chi è nella situazione di inferiorità e quindi di passività è sempre più passivo e sempre meno, diremmo noi, è sempre meno capace di tenere testa all'altro. E ovviamente questo accade proprio per mantenere uno stato di equilibrio del sistema. Così se io divento, tra virgolette, sempre più aggressivo, l'altro diventa sempre più passivo. Per mantenere appunto questo stato di equilibrio. e questo ovviamente, come dire, è un meccanismo che scaturisce da sé, però nello scaturire chiaramente impedisce l'evoluzione del sistema stesso. Un esempio tipico, qui abbiamo messo questa immagine che adesso vi spiego perché l'abbiamo scelta, un esempio tipico per esempio è quello del capro espiatorio. Cosa c'entra ora la teoria dei gruppi? No, c'entra, ha fatto spesso il capro espiatorio. Perché il capro espiatorio spesso è proprio l'anello debole, tra virgolette, che serve ad attutire le tensioni degli altri elementi del gruppo. Per esempio, proprio per un modello di retroazione negativa, che per esempio c'è qualche elemento all'interno per esempio di una famiglia, di solito può essere un figlio, che assorbe le tensioni di tutta la famiglia. Quindi più c'è tensione all'interno degli altri membri, più quel soggetto è costretto ad assorbire su di sé la tensione e quindi a farsi carico di questa tensione. Questo ovviamente può succedere anche all'interno di un gruppo, un gruppo classico, per esempio, dove qualcuno assorbe su di sé le tensioni che si vengono a riferire. E però questo processo, come vediamo, spesso e volentieri porta poi al sovraccarico su determinati individui e spesso questo appunto porta poi al crollo della situazione. Proprio perché non c'è una possibilità di un'evoluzione positiva nel caso della retroazione negativa. E qui vediamo appunto riassunti questi due concetti importanti. Retroazione positiva, aumento dell'aspetto quantitativo per mantenere l'uguaglianza, retroazione negativa, equilibrio omeostatico attraverso il mantenimento dei propri ruoli. Bene, e qui ancora una volta vediamo questa importanza della cibernetica nella teoria di Bison. Il contributo fondamentale della teoria cibernetica è data a Bison dal fatto che lo pone in un'ottica di riflessione verso il superamento del modello riduzionista del meccanicismo, del materialismo, il fisicalismo tipico dei premi del Novecento, della storia della natura. e lo mette direttamente in contatto con la teoria generale dei sistemi. Noi abbiamo trattato, abbiamo dedicato una lezione alla teoria generale dei sistemi di Bertaro Anfi e del suo gruppo e in effetti Bison gli viene un'idea. L'idea qual è? Mettere, integrare la cibernetica, quindi il modello di trasmissione delle informazioni con la teoria generale dei sistemi. E questo, vedremo, è proprio l'elemento cardine che gli permette poi di sviluppare la sua teoria sull'ecologia della mente. I fenomeni, secondo Bison, vanno osservati in una prospettiva relazionale e contestuale, quindi analizzare i fenomeni da una prospettiva sistemico-relazionale, scusate, mancano essi. E questo, vedremo, è proprio uno degli institute fondamentali che Bison diede ai ricercatori della scuola di Paolo Alto, che poi appunto diedero avvio ai famosi studi sulla pragmatica della comunicazione. Questo modello prende in considerazione quindi un circuito più vasto rispetto a quello input-output dell'informatica e dell'ingegneria, perché appunto il modello input-output ha, per così dire, una via d'ingresso, una via d'uscita e un'elaborazione. Qui invece c'è, come dire, tutta la riflessione della scuola sistemica, quindi della teoria dei sistemi, dove appunto diventa fondamentale il contesto all'interno del quale avviene lo scambio di informazioni e quindi l'input-output del processo comunicativo. E questa prospettiva non si limita a considerare quindi il processo lineare delle informazioni regolate, ma appunto mette l'accento sulla peculiarità delle comunicazioni tra organismi, che in buona parte dipende proprio dal contesto all'interno del quale si sviluppa e tiene ovviamente conto del fatto che gli individui, come dire, caricano i loro scambi comunicativi con tutta una serie di fattori che nulla hanno a che fare di per sé col contenuto comunicativo, ma riguardano, come dire, le caratteristiche fondamentali dell'essere vivente e dell'organismo vivente. E qui Beeson fa un esempio per dimostrarti proprio la differenza che c'è nel caso in cui abbiamo a che fare con degli oggetti inanimati e quindi con delle trasmissioni di informazioni, di dati tra oggetti inanimati e invece tra oggetti che sono organismi viventi. Nell'esempio fa anche un po' sorridere, se vogliamo, e dice Beeson. Beh, proviamo a prendere in considerazione un caso molto semplice, un mondo in cui le cose non sono vive. Per esempio, appunto, le palle da biliardo. Noi, come dire, siamo affezionati un po' a questo esempio delle palle da biliardo perché è uno degli esempi classici, per esempio, della pensiero filosofico e scientifico occidentale riguarda proprio David Hume, la riflessione sul concetto di causa-effetto, poi ripresa appunto da Immanuel Kant, altri autori, quindi una cosa estremamente interessante. Comunque, rimaniamo sull'esempio delle palle da biliardo. Che cosa possiamo verificare? Bisogna verificare che una palla da biliardo ne colpisce un'altra e la seconda risponde con l'energia ricevuta dalla prima. Quindi c'è uno scambio di, in questo caso non è informazione, di energia cinetica tra la prima e la seconda. E queste cose ovviamente succedano con una certa meccanicità, diremmo noi, oppure stanno in altri campi di forza e si muovono sotto l'effetto delle gravità e cose del genere. Ecco perché c'è appunto questo, il mondo fisico. E se si vuole sapere cosa accade, beh, semplicemente cosa facciamo? Prendiamo in esame l'entità delle forze con cui la palla è spinta o colpita e la sua risposta è una funzione semplice. Cioè la risposta della palla è quanto si è mossa la palla e esattamente tanto quanto è stata colpita, quindi esattamente per quanto la forza che gli è stata impressa gli è stata consegnata. Qui abbiamo messo l'immagine appunto del poale da biliardo, sembra un tipico problema, diremmo noi, di fisica. Se una palla viene colpita da un'altra con una velocità tot avente massa y, di quanto la palla si sposta. E questo è appunto un tipico problema che potremmo, come dire, analizzare dal punto di vista della fisica, della fisica classica. Ora dice me, è come dire la parte, tra virgolette, divertente, non se ne abbiano gli animalisti. Ma il mondo delle cose vive ben diverso. Infatti, se do un calcio a un cane, esso reagisce, reagisce, come reagisce? Appunto, è come reagisce, dipende dal carattere del cane, dipende dal rapporto che io ho col cane, dipende dal contesto in cui sono. Le cose vive rispondono al fatto di essere state colpite. Sì, certamente, ci sono dei fatti e sono distinti dalle forze. Cioè non è che semplicemente se io do un calcio al cane, il cane si sposta e si sposta nella direzione della forza che gli ho impresso. Ma questo è irrilevante dal punto di vista degli organismi. Dal punto di vista degli organismi equivale a una serie di cose. Io ho dato un calcio involontario o volontario? Il cane se ne accorge se io ho dato volontario oppure involontario. Provate a dare un calcio a un cane in modo volontario? Probabilmente si rigira. Provate invece per sbaglio a calciare il vostro cane dovesti così, è piagnucola, ma si mette da una parte. Cioè capisce quando voi state facendo qualcosa di volontario o di involontario. Quindi ecco che si determina tutta una situazione contestuale che peraltro riguarda appunto aspetti anche legati, diremmo noi, proprio alla conformazione organica degli individui. Per esempio appunto Deison cita il metabolismo dell'animale che entra, come dire, in campo nel momento in cui viene colpito. Per esempio il cane schizza via. Non è che si muove esclusivamente perché ha ricevuto, diciamo, una impressa, una forza dal mio calcio, ma si muove come reazione e a seconda appunto della situazione reagisce in un modo o addirittura reagisce in un altro. Bene, a partire proprio dalle differenze di un sistema di comunicazione fisico e uno organico, ecco che Deison mette in evidenza come all'interno di ogni messaggio ci sia appunto una parte di contenuto, diremmo noi, di informazione, ma poi c'è una parte di contesto. E sulla base di questa considerazione ecco che distingue nel messaggio due livelli, uno di contenuto e uno di contesto. E anche questo, vedremo, diventerà un elemento fondamentale all'interno della pragmatica della comunicazione di cui parleremo in un'ulteriore lezione. Bene, una volta fatta questa considerazione, Deison gli viene in mente una cosa estremamente interessante qui, veramente bisogna dire, l'incontro di importanti contributi del pensiero del Novecento, bisogna dire in mente di riprendere la teoria dei tipi logici di Bertrand Russell. Però non è vero, siamo diversi anni dopo la teoria dei tipi logici di Bertrand Russell che fu appunto esposta nel principio a matematica con Alfred Norton Whitehead tra il 1910 e il 1913 e che addirittura trovava le sue anticipazioni nel saggio sulla denotazione del 1905. Però sappiamo anche che Bertrand Russell in realtà è campato molto a lungo, vissuto fino al 1970, quindi in un certo senso l'incontro c'è stato. Probabilmente Deison, come dire, proveniendo anche dall'ambiente di Cambridge, aveva potuto gustare quantomeno la presenza di questo grande gigante del pensiero a cavallo trotto nel 1900 che era appunto Bertrand Russell. Veniamo alla teoria dei tipi logici di Russell un attimino perché questa è una cosa estremamente interessante perché ci mescola, tra virgolette, studi che apparentemente riguardano la matematica, la logica e però vediamo che in realtà hanno delle ripercussioni significative in campo psicologico e all'interno soprattutto delle relazioni umane. Che cosa aveva scoperto Bertrand Russell? Russell aveva mostrato che ogni volta che si chiama in causa una totalità dei fenomeni, ecco che si cade in una contraddizione. E questo era un problema antico in realtà. Russell l'aveva soltanto trovato dentro la matematica, quindi dentro la scienza, diremmo noi, e come dire era diventato cogente. Si era reso conto che riguardava proprio la logica del pensiero umano, quindi non si poteva fare a meno di affrontare questo problema, ma appunto era un problema antico. Si pensi al paradosso di Ebulide, Ebulide della scuola di Euclide, di Megara, il quale diceva io mento. Questa era una versione più sofisticata del paradosso di Epimeni del Cretese, che diceva tutti i cretesi mentono, e Ebulide l'aveva semplificato dicendo io mento. E questa cosa genera chiaramente un paradosso dal punto di vista appunto verbale, perché se io mento, scusate abbiamo messo Pinocchietto, se io mento allora io dico il vero, perché sto affermando di mentire, però se io sto affermando di mentire e dico il vero, allora non sto più mentendo e quindi sto dicendo il falso, ma se sto dicendo il falso non sto dicendo il vero. Ecco il paradosso della comunicazione di Ebulide. Ora, questo che apparentemente poteva essere non poi così importante, perché uno semplicemente evitava di fare delle espressioni di questo tipo, ma Ratz si accorse del carattere universale di questa tipologia di paradosso. Cioè che questo paradosso in realtà risiedeva all'interno proprio di un certo modo di ragionare. Era sempre lì, alle porte. Come noi producevamo un ragionamento, era facile cadere in queste forme paradossali, in queste forme in cui si confondevano i livelli della comunicazione. Per comprendere questo paradosso di Ratz cerchiamo di riformulare il problema all'interno di un linguaggio comune, che faccia riferimento a una totalità. Per fare questo abbiamo preso un esempio tratto dalla mente nuova dell'imperatore, di Roger Penrose. Roger Penrose, un grande scienziato, anche lui inglese in questo caso, però nostro contemporaneo ancora vivente, in la qualità, ma vivente in realtà più famoso per aver contribuito insieme a Stephen Hawking alla teoria dei buchi neri, ma anche molto interessante proprio per i suoi studi sulla coscienza umana. Beh, dice Penrose, immaginiamo di essere in una biblioteca, in cui ci sono due cataloghi, uno elenca tutti i libri che contengono almeno un riferimento a se stessi, quindi libri in cui si legge in questo libro c'è scritto, in questo libro abbiamo detto, in questo libro sosteniamo, e l'altro, l'altro catalogo in cui vengono contenuti tutti i libri che non contengono alcun riferimento a se stessi. Quindi nessun, in quest'ultimo gruppo, i libri non hanno mai frasi del tipo in questo libro si dice, in questo libro si è detto, questo libro cita se stesso. Mai. Bene, a questo punto ci domandiamo, se essi stessi, cioè questi due cataloghi, devono essere catalogati, in quali cataloghi li cataloghiamo? Cioè, il primo lo possiamo catalogare in se stesso, perché è l'insieme degli insiemi che, o meglio, dei libri che trattano di se stessi, ma il secondo dove lo mettiamo? Non lo posso mettere nel secondo, perché nel caso io lo mettessi nel secondo, lo farei parlare di se stesso, e quindi dovrebbe stare nel primo. Ma se lo metto nel primo, allora dovrebbe stare nel secondo. E così via. E qui abbiamo messo, appunto, questa immagine della biblioteca, immaginando, appunto, che qui ci siano due volumi, che non sappiamo dove elencare nello schedario, invece due cataloghi, possono essere semplicemente due schedari. Bene, non avendo alcun riferimento, appunto, dicevamo, nel secondo, ma così ne avrebbe, e quindi nel primo, ma così perde la sua proprietà di non averne. E così via. Bene, secondo Ras, il problema dove sta? Tutte le nostre contraddizioni hanno in comune l'assunzione di una totalità. Per esempio, quando io affermo tutte le proposizioni da me asserite sono false, beh, allora anche questa è falsa. Ma se allora questa è falsa, non è vero che tutte le proposizioni da me asserite sono false. E così via. Mi sto riferendo, appunto, in casi come questa, una totalità alla quale la proposizione stessa appartiene. Ora, questo argomento, questa tipologia di riflessione, genera in realtà tutt'una serie di situazioni paradossali, ovvero senza via di uscita. In termini matematici, la traduzione di Russell fu quella appunto di sostenere che nella logica formale, o nel discorso matematico, una classe non può mai essere un elemento di se stessa. Ovvero, una classe di classi non può essere una delle classi che sono i suoi elementi. Proviamo a formulare questa, diciamo, affermazione in termini un pochino più semplici, con un esempio. Per esempio, il termine generale cane, prendiamo il concetto cane, dogs, cani, in questo caso, va bene? Quindi, l'insieme di cani. Beh, questo concetto, con cui indichiamo tutto l'insieme dei cani, dice Russell, beh, non mi posso chiedere se esso stesso è un cane. E in effetti, anche visivamente, ci rendiamo conto che il concetto non è un cane. È appunto un tipo logico diverso. Quello è un concetto, questi sono oggetti del concetto. Quindi, questi sono elementi dell'insieme cane. e non mi posso chiedere, a sua volta, se l'insieme cane è un cane. La soluzione di Russell, in effetti, fu quella di sviluppare una rigida gerarchia diversa di tipi logici. Per esempio, individui. Primo, tipo logico. Insieme di individui. Secondo, tipo logico. Insieme di insiemi di individui. Terzo tipo. Insieme di individui di insiemi. E così via. E questo, ovviamente, faceva da premessa al fatto che gli elementi che facevano parte di un certo tipo logico possono essere membri o non membri soltanto di qualcosa che faccia parte del tipo logico di livello gerarchico superiore. Per cui io mi posso chiedere se gli individui appartengono agli insiemi di individui, ma non mi posso chiedere se gli insiemi di individui appartengono agli insiemi di individui, ma soltanto se appartengono agli insiemi di insiemi di individui. E così via. Come una grande scalinata, diremmo noi. Per fare un esempio, ancora una volta, ci possiamo domandare se Socrate è un uomo, ma non se la proprietà di essere uomo è essa stessa un umano. In sostanza, la teoria dei tipi logici ci dice che ciò che fa parte di un certo tipo logico, appunto, può essere membro o non essere membro, solo di qualcosa che faccia parte del tipo o livello gerarchico immediatamente superiore. E voi direte, bene, e cosa c'entra questa cosa così complessa con Bayson? Beh, lo vediamo subito. Infatti, Bayson si accorse che le confusioni tra le classi della logica sono un problema che riguarda non solo gli scienziati, quindi non soltanto appunto le questioni di scienza, ma in realtà tutti i fenomeni della vita umana. Qui bisogna dire che, per onor del vero, già Bertrand Russell aveva annunciato questa cosa. Cioè, già Russell aveva detto, guardate che il mio paradosso non è un problema esclusivamente della matematica o della logica, ma in realtà è un problema che sembra riguardare qualsiasi cosa. Ma in questo caso, Bayson, diciamo, punta l'accento proprio sui fenomeni della vita umana quotidiana, cioè delle nostre relazioni della vita così come la teniamo tutti i giorni, quindi le nostre comunicazioni in casa, delle nostre comunicazioni a scuola, qualsiasi tipo di relazione che può intercorrere con gli altri membri della comunità di cui facciamo parte. E quindi ecco che questi paradossi sono, per così dire, all'ordine del giorno proprio della vita umana e perfino di tutti i sistemi viventi. Nella comunicazione interpersonale vengono comunemente scambiati messaggi che appartengono a tipi logici diversi. Cioè, ogni tipo logico viene spesso non trattato, come dice appunto Russell, in modo separato, ma nella comunicazione, nel linguaggio ordinario, spesso noi sovrapponiamo questi livelli. Qui abbiamo messo un esempio. Devi imparare a star zitta quando parli con me. E questo, capite, è un chiaro paradosso. Eppure questa è un'espressione di luogo comune. Ma come devi imparare a stare zitta quando parli con me? Ma se parlo non posso stare zitta. Se sto zitta non parlo. E quindi o non parlo o sto zitta. Non c'è via di uscita. Voi direte, ma questa è una barzelletta. Bravi, avete indovinato. Infatti le barzellette spesso e volentieri si basano proprio su, diremmo noi, sui paradossi di Russell. Cioè sulla fusione di diversi tipi logici. Il problema è che questa è una barzelletta, può far ridere, ma dal punto di vista della psicologia, nella vita quotidiana possano degenerare. Cioè creare delle situazioni patologiche. Ed è qui che si entra nel secondo e fondamentale concetto affrontato appunto da Bezos. Ovvero appunto che nelle situazioni complementari, ricordate abbiamo detto, abbiamo parlato della scismogenesi complementare, dove abbiamo una situazione dove c'è una persona in una posizione dominante e l'altra in una posizione subalterna. Bene, nelle situazioni complementari, dove gli interlocutori appunto hanno questa diversa posizione e dove il secondo non ha l'opportunità, tra virgolette, quello che sta nella posizione di subalternità di andarsene via. In un certo senso quindi è vincolato dalla situazione. Prendiamo un esempio, il figlio non è possibilitato a svincolarsi da chi ne possiede la genitorialità. Per esempio i nostri alunni a scuola, i miei alunni a scuola non possono, come dire, di fronte a una comunicazione prendere e andare via. Se lo fanno prendere immediatamente un provvedimento disciplinare. Quindi sono in una situazione di vincolo. Ma vale questo anche sul posto di lavoro, basti pensare al direttore, al capo del personale, con un suo sottoposto e così via. Bene, queste tipologie di situazioni danno origine a quello che Jason chiamò appunto in patologia doppio legame, double bind, scusate la mia pronuncia inglese non è granché, doppio legame, cercheremo quindi di pronunciarlo nella traduzione. Doppio legame o doppio vincolo. E qui gli esempi che vengono fatti sono proprio appunto quelli relativi a situazioni che abbiamo citato prima, come quella appunto tra insegnante e alunno. Pensiamo ad un esempio classico in cui si crea un doppio legame, un doppio vincolo comunicativo. Il docente ordina, ecco, la relazione, il contesto che diventa fondamentale per la comunicazione. Il docente ordina all'alunno esprimi liberamente le tue idee. Ma appunto si capisce, siamo in una situazione di comando, ma se io sto comandando a qualche d'uno di esprimere liberamente le sue idee, beh, lui delle due luna, se esprime le sue idee, non lo sta più facendo in modo libero, ma lo sta facendo sotto comando. E allora cosa fa? E allora non lo fa. Ma se non lo fa, non fa quello che gli è stato comandato, cioè di esprimersi. E in ogni caso, vedete, non ha via di uscita. O ancora, proviamo un'altra situazione patologica, in questo caso che riguarda la famiglia. Quando si... a volte capita che all'interno della famiglia un genitore, una madre, si arrabbia, dice al figlio, come fai in sbagli? Ma come fai in sbagli? Allora cosa devo fare? Perché se non faccio nulla, sto sbagliando. Se faccio qualcosa, sbaglio. Come fai in sbagli? Non ho via di uscita. Sono appunto in una situazione di vincolo. E questo crea appunto una patologia, diremmo. La double bind, infatti, è una situazione paradossale in cui al soggetto che si trova in una situazione guandà, non viene data la possibilità di una scelta positiva. Qualsiasi cosa faccia è negativa e quindi si genera appunto una paralisi. Una paralisi. Queste situazioni, queste situazioni, danno origine appunto a situazioni patologiche che, se prolungate, possono portare a un vero e proprio disagio, diremmo. E Bezos ricondusse alcune forme di schizofrenia proprio al doppio legame o al doppio vincolo. Immaginando che quando la situazione di doppio legame pervade la quotidianità e determina la percezione del mondo, il soggetto, per esempio il bambino, comunque la persona che si trova in posizione di sottitanza, diviene incapace di discernere tra i diversi tipi logici. Cioè si perde la capacità di distinguere tra i diversi tipi logici e quindi si incappa in delle forme di schizofrenia. Questi studi, da questi studi di Bezos, prendono avvio due altri grandi tronconi di ricerca. Di uno di questi parleremo in una lezione specifica, e lo abbiamo già accennato più di una volta, sono gli studi degli altri ricercatori della scuola di Palo Alto, come Vazlavic, che appunto daranno via allo studio della pragmatica della comunicazione, e dall'altro lato appunto Bezos approfondisce i temi sull'ecologia della mente, di cui però appunto daremo soltanto alcuni elementi qui, tanto per, come dire, lasciare poi la curiosità di andare a approfondire. A proposito dell'ecologia della mente, quindi della teoria ecologica della mente, la teoria dei sistemi applicata ai processi comunicativi, perché vi ricordo che Bezos arriva a quest'analisi proprio cercando di mettere insieme la teoria cibernetica dell'informazione, però complicandola con la teoria generale dei sistemi invertalanti, ecco che Nash, si, Bezos, come dire, mette in evidenza le questioni legate, per esempio, all'apprendimento. E qui, ovviamente, ci siamo limitati a dare uno sguardo a questo concetto dell'apprendimento, che è quello che ci interessa in modo particolare. Secondo, Bezos, appunto, l'apprendimento è una di quelle pratiche che necessita maggiormente di una visione sistemica, una dimensione sistemica che eviti tutta una serie di storture. Per quanto riguarda le storture, il problema, dice Bezos, non sono i contenuti dell'insegnamento, non sono, diremmo noi, le informazioni, ma le modalità. In particolare, tra queste modalità, dice Bezos, noi siamo, in un certo senso, siamo, per così dire, messi in difficoltà da alcune di queste. E queste sono il dualismo cartesiano, mente, natura, questa è una delle distorsioni con cui abbiamo a che fare, il fisicalismo delle metafore, cioè quando, per esempio, cerchiamo di spiegare fenomeni mentali in termini quantitativi, diremmo noi, e l'assunto proprio che tutti i fenomeni debbano essere studiati e valutati in termini quantitativi. Ecco il problema. La mente, quando noi si parla di mente in termini di potenza, tensione, energia, in realtà stiamo usando delle categorie che non vanno bene per la mente, ma vanno bene, appunto, per la palle da biliardo, non per il cane che viene calciato, vi ricordate l'esempio. E in generale, appunto, non è possibile che tutti i fenomeni siano studiati in termini quantitativi. E qui abbiamo riassunto, appunto, questi tre elementi che sono alla base delle difficoltà nei processi di apprendimento. E qui Bezos si fa proprio promotore di un'immagine del mondo che supera quella tradizionale, che ha visto contrapporsi le ragioni della ragione con le ragioni del cuore. Scusate, la citazione sembra quasi di fare riferimento a Pascal, ma in un certo senso qui però la situazione è ben diversa, perché lì, appunto, le cose rimanevano distinte. E qui invece Bezos afferma che ognuno di questo aspetto è, come dire, va incrementato con l'altro. Quindi devono andare di pari passo, pensaci, muoviti. Abbiamo messo insieme questi due elementi che sembrano riassumere, appunto, le ragioni della ragione e le ragioni del cuore. Questo è il senso proprio di mettere insieme queste due cose. Questi due processi, infatti, dice Bezos, cioè l'idea della dualità mente-corpo, non vanno visti come nella visione classica dualistica, da una parte c'è la mente e dall'altro c'è il corpo, ma vanno visti appunto in una visione duale, ovvero ammettere e accettare che queste sono due facce di una stessa medaglia, oggi diremo, cioè due facce di una stessa realtà. E non solo, ma oltre a questo, questo è l'altro importante suggerimento che ci arriva da Bezos a proposito dell'educazione, è quello appunto di fare in modo di non avere come unica prospettiva la finalità cosciente. Cosa si intende per finalità cosciente? Si intende che noi operiamo nel mondo coscientemente per strumentalizzarlo ai nostri fini, cioè ottenere immediatamente dal mondo quello che noi vogliamo avere per superare le nostre difficoltà, le nostre, per esempio, tagliare gli alberi per prendere il legno, oppure trivellare in terra per prendere il petrolio per mandare le macchine, questo, cioè una forma esclusiva strumentalizzazione. Da questo punto di vista potremmo anche dire che Bezos in un certo senso come dire, si pone proprio anche in un'ottica di tipo proprio ecologico, nel senso proprio dell'ambiente, dell'ecologia, quindi non soltanto ecologia della mente dal punto di vista dei luoghi, delle diversi aspetti della mente appunto in relazione alle sue caratteristiche, ma anche proprio in relazione all'ambiente. E da questo punto di vista è estremamente importante ciò che dice, perché non solo appunto questa visione dualistica va eliminata, ma l'uomo deve imparare ad agire in maniera sinergica con il proprio ambiente. E questo riguarda proprio la teoria generale dei sistemi e la sua applicazione a questo aspetto relazionale, perché io interagisco sul mio ambiente, ma il mio ambiente interagisce su di me. Se mi prendo cura del mio ambiente, il mio ambiente si prende cura di me. E via così dicendo, non esiste una separazione netta tra me e l'ambiente. E questo appunto riguarda in particolar modo i processi di apprendimento. Per quanto riguarda i processi ancora di apprendimento, ancora una volta Bison fa riferimento alla teoria dei tipi logici di Russell e qui abbiamo riportato, ci siamo limitati a riportare, queste non sono parole mie, appunto come secondo questo autore si può applicare la scala, la diversa tipologia logica appunto al progressivo processo di apprendimento. e qui abbiamo messo un'immagine che se si apre, appunto non si è aperta, ci dà appunto, eccola qua, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti ad apprendere, ci fa vedere graficamente i diversi livelli di apprendimento in base appunto alla teoria dei tipi logici. Apprendimento 0, particolare comportamento in particolare ambiente. Apprendimento 1, adattamento al raccomando dei comportamenti dovuti alla redefinizione della rappresentazione interna. Apprendimento 2, cambiamenti nell'intero approccio comportamentale dovuto a una reinterpretazione del contesto. Apprendimento 3 e così via. Bene, speriamo di non essere stati esaustivi ma chiari su quelli che sono gli elementi fondamentali che abbiamo trattato della teoria di Besan, ovvero appunto la scismogenesi da cui diciamo tutti gli studi partono. L'approccio che dalla scismogenesi attraverso la teoria cibernetica e la teoria dei tipi logici di Russell prende in considerazione i problemi legati al doppio legame, al doppio vincolo e le sue conseguenze. E infine a come provare a leggere in modo diverso i contesti attraverso i quali noi sviluppiamo i nostri processi di apprendimento. Grazie, arrivederci alla prossima lezione.